ciao a tutti amici ben ritrovati sul canale di linea ok oggi abbiamo un video non dedicato oggi voglio fare una monoglattata quasi oggi abbiamo un miliardario da varico che non lo facevo ho detto fammi riprovare a prendere qualche bigliettino del miliardario del biglietto antico lo chiamo io e comunque prima di cominciare a grattare voglio fare non è un video dedicato però voglio fare voglio salutare daria rota e fare gli auguri di buon compleanno per la sua nipotina ludovica che ha compiuto anzi ha compiuto 9 anni ieri domenica 8 lunedì quando vedete il video voi che voto in forensesi d'aria io sto facendo il video di domenica dunque il giorno del compleanno ti faccio anche auguri per la tua nipotina di buon compleanno ok e poi ti volevo solo dire una cosa che io non faccio video dedicati non dedico grazioni ai bambini o minorenni in genere diciamo e comunque al prossimo video dedica ti dedicherò un grazino a te ok te lo dedico a te a tua nipote faccio tanti auguri ancora divertiti insieme a lei oggi che oggi io faccio il video quando è il compleanno praticamente ok ti auguri ancora di buona salute prima di tutto e poi per tutto il resto della vita ok ciao a tutti comunque saluto a tutti e possiamo adesso la nostra quasi monocrattata del migliore a darla ok cominciamo con un numero vediamo aggiungiamo un po da bene così poco poco ok allora abbiamo una serie 72 numero 47 e vediamo un po da parecchio che non facevo un video così benvenuta la voglia di rifarlo ok allora numeri vincenti abbiamo 13 santa lucia 43 34 20 e 16 il numero della luna che non so mai e vediamo che ci smentisce primo numero abbiamo 14 e 14 e poi abbiamo 37 niente 34 si abbiamo preso il numero carissimo abbiamo 31 e 11 niente poi abbiamo 23 non c'è 26 neanche 27 ci manca 45 non c'è e 32 non c'è neanche poi abbiamo 22 le paparelle non ci sono 20 secondo numero 2 e 11 da me 21 33 niente 33 niente ultimo numero 17 non abbiamo messo comunque abbiamo preso due numeri e vediamo un po che ci dice qua quali erano? ho già dimenticato allora il 20 che ci dice? ah 10 euro buono e l'altro numero qual era? il 13 forse ah no 143 14 quale numero era? il numero era? il numero 31? il numero 34? no va bene ah il numero 37 no 13 mi sembrava che abbiamo preso il numero comunque 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 qui sono 10 euro comunque qui sono 10 euro e va bene ah 14 no 37 no ah 34 5 euro ecco 15 euro questo questo era 34 ok 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 scusate mi sono andato in gilchia allora qual è il numero? allora abbiamo preso 15 euro con primo buglietto bene continuiamo così numero 47 vincente adesso passiamo al secondo bugliettino del miliardario quel numero 48 vediamo un po' ok numero 48 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 c'è 45, 42 niente, 33 non c'è, 22 neanche, 14 c'è il 15, ultima riga 21 non c'è, 11 non c'è, 32 neanche, 25 c'è il 24, ultimo numero 35 che non abbiamo, buglietto numero 48, buglietto, passiamo al prossimo, ok, numeri vincenti, 35, 42, 17, 45 e 40, ah, questo è l'insegna della quarantina, primo numero 46, ecco quello che ci manca, abbiamo 20, niente, 38, 33 e 21 non c'è, abbiamo 26 niente, 41 che è 40, 30, 37 e 18 che è 17, poi abbiamo 39, niente, non c'è, 19 neanche, 13 ci manca, 14 non c'è e 28 non c'è, allora numero 49, bordente, passiamo al prossimo, questo è il numero 50, allora 43, 28, 14, 46 e 25, primo numero ci dice 33 e 33, niente, abbiamo 39, non c'è, 20, no, 32, la 20 non ce l'abbiamo, bravo, e 17 non c'è, abbiamo 31, non c'è, 26, no, c'è 25, 42 c'è 43, 12 e 40 non c'è, qua abbiamo 21, non c'è, 38 non c'è, 34 neanche, 11 no, e 16 neanche, terzo bollettino, bordente, meno male che abbiamo preso col primo 15 euro, questo è il numero 50, adesso facciamo il numero 51, e vediamo il numero 51, il tempo c'è da 72, allora, primo numero 33, i numeri vincenti, 19, 12, 23 e 42, ok, primo numero ci dice 15, non c'è, abbiamo 29, no, 46, non c'è, 37 neanche, e 24 no, abbiamo 36, non c'è, 44 gatti niente, 34 ce l'avevamo prima, c'è il 33, 30 ci manca, e 38 anche, allora, 40, niente, 14 neanche, 21, non c'è, 13 c'è il 12, e 11, niente, carissimi, sui 5 bigliettini grattati, abbiamo preso solo con uno 15 euro, va bene, il numero 51 è anche importante, adesso passiamo all'ultimo bigliettino di oggi che è una tombola, numero 31, serie 10, 16, vediamo, allora, primo numero 68, eccolo qua, seguo 71 che non c'è, guardiamo 69, niente, 72 sì, 57, non c'è, 29 neanche, 77 sì, eccolo, 84, ok, abbiamo 48, niente, 31 neanche, 36 non c'è, 49 ce l'abbiamo, eccolo qua, abbiamo 8, ok, abbiamo fatto i tre ambi, vediamo un po', con questi sono numeri, 12, non c'è, 45 neanche, e 1, bene, abbiamo fatto, interno, cari amici, 1, 68 e 77, ok, e noi vediamo, con le stelline, se facciamo qualcosa, anche, caramella, calza, e regalo, vediamo un po', campana, albero, e candela, niente, abbiamo solo un terno, che ci dice, vediamo un po', e 5 euro, se mica ci possiamo sbagliare, e niente, capisciamici, 6 biglietti, 8 trattati, abbiamo ripreso 15 euro, con un miliardario, 5 euro, abbiamo fatto un recupero, praticamente 30 euro spesi, abbiamo ripreso 20 euro, e vabbè, comunque, pazienza, come dico sempre io, che ci possiamo fa', ecco sì, i gattini sono così, e comunque, si può dire che sono stata pure fortunata a prendere 20 euro, 5 miliardari, una tombola, allora, 15 euro, e 5, sono 20 euro, grazie a tutti amici, per la visione, e niente, condividete, iscrivetevi, e poi lo sento alla luna, prima o poi arriverà, non dite arriverà la lintedina, più grossa, non fa piacere in più, dico io, va bene, ok, ciao a tutti amici, buona giornata ancora, al prossimo video, un bacio, un abbraccio alla luna, ciao ciao! 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 Ciao!